E' stato chiesto di vivere questo saluto in un contesto di non vivere trattenendo la propria vita, ma donandola, anticipando cioè quella capacità. La nostra passione è il calcio, questo ci dà molto di condividere, esperienze positive e negativi. Cerchiamo di insegnare e trasmettere qualcosa ai nostri ragazzi. Quest'anno, Cristian, abbiamo condiviso dei momenti. Amore, vuoi venire con me? Cercano lunghezze, le più grandi, le più piccole. Capisci? Non portano nessun ruolo, nessuna risposta. Vedi con me, con una carezza di mani, se vuoi da finestra scavalchiamo. Nessuno ha mai visto un panorama del genere, nessuno tra noi due. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti